Non fare abbassare la guardia al governo sull'Abruzzo, sintetizza così Stefania Pezzopane, deputato del Partito Democratico, il suo primo anno di lavoro. Dieci proposte di legge come primo firmatario, 48 interventi in aula, 53 interrogazioni, percentuale di presenza del 91%, questi numeri dell'anno di lavoro del deputato del Partito Democratico, rivelati dall'Osservatorio della Camera e da Open Police. Ho cercato ovviamente di lavorare in gran parte per il territorio abruzzese e per il mio collegio, quindi ovviamente molte iniziative sono legate ai temi della ricostruzione, ai temi dell'agricoltura del fucino, ai temi delle autostrade, delle tariffe, della sicurezza delle autostrade, della viabilità, quindi mi sono sempre dedicata a questioni che poi avessero una ricaduta. La mia battaglia è stata anche quella di evitare che la disattenzione, la distrazione, le prese in giro della campagna elettorale potessero danneggiare i miei concittadini. La produzione di proposte riguarda temi di rilevanza nazionale e ricaduta locale, come ad esempio la tutela delle famiglie delle vittime dei terremoti, lavoro e vertenze call center, ricostruzione e nuovi crateri. In particolare la questione delle tasse dell'Aquila e l'estensione dello sgravo ai crateri del 2016-2017. Tra le priorità attuali Stefania Pezzopane sottolinea la necessità di recuperare i 65 milioni sottratti ai fondi della ricostruzione dell'Aquila, dal decreto sblocca cantieri, ma anche la stabilizzazione del personale della ricostruzione e la messa in sicurezza della strada dei parchi e quella del Gran Sasso per la questione delle acque inquinate, per cui è stato disposto il risanamento con la conseguente chiusura del traforo, una mannaia per l'economia locale. Ci vogliono le risorse, ci vogliono le risorse, su questo presenterò un testo con emendamenti e oltre che come iniziativa parlamentare, ci vogliono circa 180 milioni che potrebbero essere distribuiti in tre annualità e poi ci serve un miglior coordinamento delle istituzioni in campo. Perché? Perché da una parte i laboratori, dall'altra la società delle autostrade, dall'altra la regione che è competente sulla gestione del sistema idrico, a volte non cooperano adeguatamente e c'è adesso questo allarme conseguente a una decisione della Procura della Repubblica di Teramo. Questa è sicuramente per me una priorità dei prossimi giorni e credo che nel decreto appalti si debba già lì, io lo farò, spero che lo faccia anche il Governo rispondendo positivamente a questa mia iniziativa, è già lì la possibilità di risolvere. ...un dovere, non un pregio.